L'iniziativa di Confindustria rientra nell'ambito del forum per lo sviluppo della Smart City nell'area mediterranea. Taglio del nastro oggi per Green City Energy Med, la due giorni dedicata all'energia intelligente e allo sviluppo sostenibile delle città. Bari è la terza tappa di un circuito nazionale di convegni, workshop, relazioni e incontri multidisciplinari che sta attraversando le quattro città candidate al progetto European Smart Cities, ovvero Pisa, Torino, Bari e Genova e che si concluderà nel capoluogo Ligure il 29 e il 30 novembre. Per la due giorni barese è attesi più di 130 relatori e 700 partecipanti.